ciao a tutti eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare un nuovo appuntamento con la rubrica riders of the lost film questa volta andiamo indietro nel tempo ma non di tantissimo andiamo al 1976 quando uscì un horror che fu d'ispirazione che è ballata macabra film diretto da den curtis con protagonista karen black oliver reed barges meredith e ne parlo con grande piacere con pierpaolo bonelli ciao pierpaolo ciao giulio andiamo a riscoprire un film che piace tanto a steven king questo e chissà perché chissà perché diciamo che secondo me da questo film steven king ha preso tantissimo come ispirazione presso lo capirete perché la storia di una tranquilla famiglia la famiglia rolf che va in vacanza va in vacanza in una sperduta villa in campagna per trascorrere l'estate oltre al marito ben c'è la moglie merio nel figlio david e anche la zia elisabeth loro hanno trovato questo annuncio di questa casa e avevano prenotato l'offerta era anche molto vantaggiosa a livello di prezzo c'era solo una piccola diciamo così controindicazione che la famiglia rolf si doveva occupare di una signora di una signora molto anziana che viveva che vive all'interno della della villa al terzo piano ma non bisognava fare niente di particolare se non lasciare il piatto da mangiare fuori dalla dalla porta era solo questo il compito e allora loro accettano e affittano appunto dai padroni la casa la vacanza sembra andare così tranquilla ma qualcosa sta sta cambiando sia in in ben che sta avendo una sorta di crisi ha degli atteggiamenti nei confronti di david il figlio anche molto violenti la la moglie merion anche lei ha delle sensazioni strane soprattutto nei confronti dei marito è molto ostile c'è qualcosa nell'aria che non va allora ben capisce che c'è qualcosa dentro questa casa ma quello che ci sarà lo scoprirete guardando ballata macabra allora il film ricordiamolo diretto da dan curtis ed è tratto dal racconto omonimo di robert marasco il racconto in originale intitolato burnt offerings che sono praticamente le offerte votive i corpi dati in in dono praticamente il film è interessante interessante per tanti motivi perché dicevo intanto è un film che poi ha come protagonista assoluta la casa e noi sappiamo bene che le case dai primi racconti gotici sono assolute protagoniste di tantissime storie horror sì assolutamente nel nel vederlo ovviamente penserete a me e ho pensato ad all'influenza che ha avuto anche con la casa di raimi con emithville horror e anche soprattutto nella parte finale niente di meno che con shining di stalle kubrick e tu giustamente prima pierpaolo ci hai citato steven king perché appunto shining è scritto steven king insomma qua c'è una chiara influenza nei nei due autori regista e scrittore proprio nel nel finale il film è in realtà un film che parte in maniera decisamente lenta ma nel momento in cui le manifestazioni che in realtà non sono neanche così eclatanti sono di atmosfera nel momento in cui queste manifestazioni si palesano il film ha un ritmo veramente frenetico dan curtis fa un ottimo lavoro di ambientazione di tensione e poi c'è anche da dire che il cast insomma è un grandissimo cast perché abbiamo due attori come Karen Black e Oliver Reed che hanno alle spalle una fenomenale carriera Oliver Reed è una delle icone della Hammer Production Karen Black insomma è ricordata per Easy Rider insomma quindi abbiamo anche dal cast un ottimo valore a cui aggiungiamo anche Beth Davis che fa parte che fa la signora anziana e regala pardon fa la zia Elizabeth che regala un'interpretazione molto macabra e cruenta allora Dan Curtis ricordiamolo il regista e anche il cosceneggiatore del film non è un genio della regia della macchina da presa ha fatto a diretto al cinema credo 6 o 7 film di cui solamente 2 o 3 sono stati distribuiti in Italia è stato prevalentemente un regista televisivo ma fa parte di quel gruppo di registi che sono degli ottimi misteranti non sono dei geni ma sanno fare il loro mestiere e lo fanno molto bene tant'è che ci sono delle scene cioè soprattutto la discesa e la rappresentazione della discesa nella follia di Karen Black è veramente ritratta in modo sublime del regista con quelle riprese di abiti e trucco che cambiano quasi impercettibilmente e che ci permettono di capire come stia effettivamente cambiando anche la mente della protagonista assolutamente è molto molto potente la trasformazione di Merion non solo da un punto di vista attoriale ma anche fisico e non aggiungo altro però ricordiamo anche che il film quando uscì andò in maniera discreta ha avuto negli anni 80 una buona distribuzione e poi è stato totalmente dimenticato e anche per quello lo vogliamo recuperare perché è un film che ha una sua essenza e una sua influenza quindi è giusto citarlo oltre al fatto che comunque si è distinto in due festival di genere come il Saturn Award e il Sigis Film Festival del 77 vincendo degli importanti premi come miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista e anche miglior attore protagonista a Bargues Meredith che conosciamo benissimo perché è il micchi di Rocky cioè l'allenatore nonché il penguin della serie tv Batman il titolo è ballata macabra ed è il film che abbiamo riscoperto per Riders il film ricordiamolo diretto da Dan Curtis con Karen Blake, Oliver Reed, Ben Davis e insomma un sacco di altri attori è un film da riscoprire assolutamente come sempre grazie Pierpaolo ciao a tutti e alla prossima